Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Davi Bianco Celeste. Oggi ragazzi siamo qui in un nuovo video dove vi andrò a parlare dell'ufficialità di Andrea Spereira che arriva alla Lazio. Questa volta ufficiale, notizia appunto ufficiale di ieri sera circa verso le 9.10. La Lazio appunto ha messo il comunicato dicendo che la SS Lazio acquista ufficialmente Andrea Spereira dal Manchester United. Quindi ragazzi l'acquisto è ufficiale perché ha già fatto anche le visite mediche. Qua appunto si vede un'immagine con la sciarpa della SS Lazio 1900 e anche a Roma. Quindi è arrivato a Roma, ha già fatto le visite mediche, insomma è tutto ufficiale. Ragazzi Andrea Spereira secondo me un buon colpo per chiudere il mercato, veramente un buon colpo. Ora mancano pochi giorni al mercato, non so se ne arriverà un altro ma non credo. E comunque Andrea Spereira ha un ruolo di C.O.C. diciamo. Comunque può giocare anche nel centrocampo a tre della Lazio, cioè a 5 ma non come esterno. E appunto ha 24-25 anni e è una buonissima alternativa per far rifiatare Luisa Alberto e Milinkovic quando magari saranno stanchi. Quindi tecnicamente è abbastanza forte e veramente un buon acquisto che serviva alla Lazio. Appunto per aumentare i panchinari, per dare più foltezza alla panchina. Però anche in panchina ci servono giocatori un po' più forti diciamo di quelli che avevamo questi anni. E lì due rinforzi a centrocampo, appunto Escalante e Andrea Spereira a centrocampo sono contento. Speriamo che possano fare bene con questa maglia. Comunque ragazzi c'è la notizia, era questa. Direi che non vi devo dire altro. Un video abbastanza breve ma giusto per comunicarvi la notizia ufficiale. Io vi ricordo che se volete iscrivervi al canale attivando la campanellina siete i benvenuti. E se siete nuovi andate sulla casella informazioni per vedere di cosa parla il mio canale. Detto questo ragazzi il video può finire qui e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!